adesso i premi invece assegnati dal comitato organizzatore ai calciatori da chi partiamo partiamo dal milan dai e allora facciamo così introduciamo il vincitore con questa clip complimenti dunque a simon kier che ha vinto il premio gente ma per quello che riguarda il milan è stato veramente uno dei giocatori protagonisti di questa stagione non solo rossonera ma direi in generale allora chiediamogli un po cosa si prova a essere identificato come il signore un signore del calcio penso che sempre comportati bene come persona su campo e fuori dal campo essere un esempio per i tuoi compagni e su tutti i tifosi del milan l'abbiamo detto più volte però questa è stata una stagione particolare allora chiediamo a chi era come è stato giocare senza la passione il calore dei tifosi è stata una una prova una cosa che io non pensavo mai a provare la mia carriera la mancazza dei nostri tifosi è enorme però comunque abbiamo sempre avuto la sensazione che sono sempre stati vicini anche la spinta per arrivare sui nostri obiettivi però speriamo presto che tornerà sulle stagioni se lo auguriamo tutti